Noi continuiamo a chiedere da oramai da mesi una scuola in sicurezza, una scuola che faccia degli screening per prevenzione, non come accade adesso a seguito di focolai, quindi per limitare i danni già accaduti sostanzialmente. Vorremmo prevenirli, vorremmo far stare tutti in sicurezza a scuola. A Pescara ma anche in altri comuni i sindaci hanno chiuso tutte le scuole, il Presidente Marsiglio la settimana scorsa aveva chiuso le scuole superiori. Qual è il vostro giudizio, il vostro pensiero su questi provvedimenti? Ripeto, questi sono provvedimenti purtroppo che arrivano dopo i danni. Dobbiamo cercare di prevenirli, dobbiamo cercare di dare sicurezza a scuola. A scuola si fanno tante iniziative, si fa un'educazione alla salute, si fa una prevenzione delle devianze, la prevenzione per chi può poi andare verso l'alcol, verso le droghe e così via. Oggi non diamo un segnale positivo non facendo screening preventivi ma intervenendo solo successivamente. Comunque vanno ringraziati i sindaci che poi intervengono. I numeri dicono che nelle ultime settimane però nelle scuole ci sono stati diversi positivi. Come si può spiegare questo al di là di questi controlli che ci sono stati un po' a singhiozzo? Perché i problemi sono rimasti risolti, i problemi dei trasporti, soprattutto i problemi strutturali delle scuole. I spazi sono stati e sono sempre quelli, insomma voglio dire. Non è quella prevenzione, quella famosa distanza, il metro tra le rime e buccali, non è in realtà una reale prevenzione della diffusione del contagio. A tutto questo si aggiunge un punto interrogativo per quanto riguarda il prossimo anno scolastico al di là dei problemi che ci sono oggi perché proprio in un vostro documento si evince che c'è un calo di iscritti per quanto riguarda il prossimo anno scolastico. Sì, l'ufficio regionale ci ha informati di questa perdita che corrisponde praticamente a livello regionale quasi a un istituto scolastico. Non sono numeri omogenei su tutto il territorio ma il segnale è quello, ancora di una diminuzione della popolazione scolastica.